Per i dipendenti di poste italiane cambiamo dunque argomento, spostarsi in taxi a Roma è più vantaggioso grazie ad una intesa siglata con Samarcanda che prevede uno sconto del 10%, questa è la convenzione sul tassametro nonché il beneficio di usufruire di un canale prioritario per la ricerca del taxi. Lo sconto per i dipendenti di poste italiane residenti o anche solo di passaggio a Roma è valido su tutte le corse urbane mentre per quelle di rete all'aeroporto di Fiumicino è prevista una tariffa massima garantita oppure un prezzo fisso per chi acquista online. Per utilizzare la convenzione basterà comunicare telefonicamente all'operatore il codice promo 1020 e una volta a bordo mostrare il badge aziendale. Sulla flotta taxi di Samarcanda è inoltre possibile utilizzare il servizio di pagamento codice PostePay semplicemente inquadrando dall'app PostePay il QR code presente sulle vetture. Tutti i dettagli, vi ricordo i dettagli di questa nuova convenzione dedicata ai dipendenti si possono consultare nella sezione offerte per noi sulla internet aziendale, quindi facilissimo fatemi un giro per scoprire appunto la nuova convenzione.